Il sogno finisce all'improvviso è il libro del collega Massimo Colonna, una storia avvincente che affronta i difficili compromessi tra genitori e figli, il racconto di un padre costretto a fare i conti con se stesso. Vediamo. Il sogno finisce all'improvviso racconta la storia di un padre che è costretto a fare i conti con se stesso per via della morte improvvisa del figlio. Dopo questo tragico evento sarà costretto a fare prima di tutti i conti con se stesso attraverso una confessione, diverse confessioni, prima di tutto con il proprio sacerdote e poi anche con sua moglie. Non è la storia di qualcuno in particolare ma possiamo dire che è la storia un po' di tutti perché l'obiettivo di questo racconto è quello di portare il lettore a fare i conti con se stesso soprattutto per quanto riguarda il proprio rapporto con Dio, con il padre e con il suo essere comunque figlio. Il libro nasce innanzitutto come un viaggio che l'autore ha voluto compiere sia orizzontalmente perché si è guardato intorno ma anche verticalmente perché ha cercato un rapporto con l'altro. è un libro che parla di Dio ma non è un libro confessionale, quindi è un libro che risponde, anzi è un libro che provoca le domande a chiunque, a chiunque non si limita a guardare soltanto la punta del proprio naso. Ed è un libro scritto anche molto bene perché Massimo ha una scrittura pulita, una scrittura essenziale e anche una scrittura incalzante proprio legata al libro, alla storia del libro, anche la scrittura che suscita domande ad ogni riga.